I campionati sono lunghi, l'importante è stare davanti alla fine. Sicuramente sono d'accordo con te, penso che non sia un caso che il Venezia riesca a vincere tante partite alla fine. Perché come ho detto prima, secondo me è davanti a dei giocatori importanti, di qualità, che possono risolvere la partita anche alla fine, come è capitato a noi ieri. Quindi quando dico che il campionato è ancora lungo, non lo dico tanto per dire, per tenere i giocatori tranquilli, per mettere uno scudo davanti per trovare delle scuse alla fine. Lo penso veramente perché noi dobbiamo andare ancora a Padova. Padova è a tre punti da noi, quindi ci sono anche le altre squadre che sono forti, che vogliono vincere. Come lo vogliamo vincere noi, quindi vedi per terra, lavoriamo.